Ancora più vera ed intensa. Oramai sono certo che il manto di foglie morte che è alla base di un bosco è una morte apparente sotto la quale germoglia la vita ancora più vera ed intensa. Una vita non scollegata dall'altezza degli alberi che compongono il bosco, così fisici, così terreni, ma che affondano le radici in una grande esistenza silenziosa. Commento. Quando l'individualità inizia ad incarnarsi nella forma di vita minerale, si incarna in una serie di elementi che fanno parte del regno minerale e costituisce la cosiddetta anima gruppo. Lo stesso accade quando l'individuo si incarna nel regno vegetale, dove i vegetali incarnati saranno in numero minore rispetto ai minerali incarnati. E ancora, gli animali incarnati saranno un numero minore rispetto ai vegetali incarnati, fino a quando l'anima gruppo non esisterà più e l'individuo si incarnerà in un unico essere chiamato umano.